Erano evidenti le forti differenze tra il reddito dichiarato e il patrimonio posseduto. Per questo è scattato il sequestro a carico di Roberto Russo, già in carcere per associazione mafiosa e spaccio di droga dopo l'ultimo arresto nel gennaio scorso durante l'operazione Nuova Ionia su mafia e rifiuti. Russo è infatti considerato esponente di spicco. Nelle calanne del Cintorino, gruppo orbitante attorno alla potente cosca catanese Cappello Bonaccorsi, il presunto Bosco, le sue imprese lavorava nel settore della raccolta dei rifiuti urbani appoggiandosi, dicono gli investigatori, al potere intimidatorio derivante dalla sua appartenenza alle cosche. Le imprese sequestrate erano formalmente intestate a parenti e persone vicine al russo che facevano da prestanome. Il patrimonio sequestrato ammonta circa un milione di euro. Si tratta di attività di bar tabacchi, svariati conti correnti bancari e postali. Ad essere sequestrata, oltre al Mars Service SRL, ditto operante nella raccolta dei rifiuti, anche la società Alcantara 2001, la quale solo apparentemente operava nel campo dei lavori stradali, che in realtà si aggiudicava a parte di lavori pubblici per lo smaltimento di micro discariche.